Ciao, ecco come preparare degli ottimi spaghetti al salmone e rucola. Un piatto raffinato e pronto in un attimo, perfetto per festeggiare un'occasione speciale. Gli ingredienti necessari sono 200 g di salmone fresco, 200 g di spaghetti, 2 cucchiai di creme fraiche, 1 dl di brodo vegetale, una presa di sale, una presa di pepe, un rametto di timo limone, 50 g di rucola